in una giornata di corse sulla tribuna andrea sperelli voleva ottenere da donna ippolita al bonico che la andasse la dimane al palazzo zuccari per prendere il misterioso avorio dedicato a lei e la si schermiva ondeggiando fra la prudenza e la curiosità ad ogni frase del giovane un po ardita corrugava le sopracciglia mentre un sorriso involontario le sforzava la bocca e la sua testa sotto il cappello ornato di piume bianche sul fondo dell'ombrellino ornato di merletti bianchi era in un momento di singolare armonia tibi ippolita dunque venite io vi aspetterò tutto il giorno dalle due fino a sera va bene ma siete pazzo di che temete io giuro alla maestà vostra di non toglierle neppure un guanto rimarrà seduta come in un trono secondo il suo regal costume e anche prendendo una tazza di tè potrà non posare lo scettro invisibile che porta sempre nella destra imperioso è concessa la grazia a questi patti no ma ella sorrideva perché compiacevasi di sentir rilevare quell'aspetto di legalità che era la sua gloria e andrea sperelli continuava a tentarla sempre in tono di scherzo di preghiera unendo alla seduzione della sua voce uno sguardo continuo sottile penetrante quello sguardo indefinibile che sembrava svestire le donne vederle ignude attraverso le vesti toccarle sulla pelle viva non voglio che mi guardiate così disse donna ippolita quasi offesa con un lieve rossore sulla tribuna erano rimaste poche persone signore e signori passeggiavano sull'erba lungo lo steccato o circondavano il cavallo vittorioso o scommettevano coi pubblici scommettitori urlanti sotto l'incostanza del sole che appariva e spariva tra i molli arcipelaghi delle nuvole scendiamo e la soggiunse non accorgendosi degli occhi seguaci di giannetto rutolo che stava appoggiato alla ringhiera della scala quando per discendere passarono dinanzi a colui lo sperelli disse addio marchese a poi correremo il rutolo sinchinò profondamente a donna ippolita e una subita fiamma gli colorò la faccia era gli parso di sentire nel saluto del conte una leggera irrisione rimase alla ringhiera seguendo sempre con gli occhi la coppia nel recinto visibilmente soffriva giannetto rutolo fingendo di voler osservare i cavalli che entravano nella pista volse il binocolo sui due visibilmente gli tremavano le mani ogni sorriso ogni gesto ogni attitudine di ippolita gli dava un atroce dolore quando abbassò il binocolo egli era assai smorto aveva sorpreso negli occhi dell'amata che si posavano sullo sperelli quello sguardo che egli ben conosceva poiché ne era stato un tempo illuminato di speranza gli parve che tutto ruinasse intorno a lui un lungo amore finiva troncato da quello sguardo irreparabilmente la tribuna si ripopolava rapidamente giacché il segnale della terza corsa era prossimo le dame salivano in piedi sui sedili un mormorio correva lungo i gradi simile a un vento sopra un giardino in pendio la campanella squillò i cavalli partirono come un gruppo di saette correrò in onor vostro donna ippolita disse andrea sperelli all'albonico prendendo congedo per andare a prepararsi alla seguente corsa che era di gentiluomini tibi ippolita sempre e la gli strinse la mano forte per augurio non pensando che anche giannetto ruto lo stava fra i contenditori quando vide poco oltre l'amante pallido scendere giù per la scala l'ingenua crudeltà dell'indifferenza le regnava nei belli occhi oscuri il vecchio amore le cadeva dall'anima pari a una spoglia inerte per l'invasione del nuovo e la non apparteneva più a quell'uomo non gli era legata da nessun legame il duca di beffi e paolo caligaro stavano sulla soglia già in assetto di corsa il piccolo caligaro imprecava la pioggia della notte che aveva reso pesante il terreno ora disse allo sperelli tu hai molte probabilità con mici in mallicio giannetto ruto lo udì quel presagio ed ebbe al cuore una fitta egli riponeva nella vittoria una vaga speranza nella sua immaginazione vedeva gli effetti di una corsa vinta e di un duello fortunato contro il nemico spogliandosi ogni suo gesto tradiva la preoccupazione ecco un uomo che prima di montare a cavallo vede aperta la sepoltura disse il duca di beffi posandogli una mano sulla spalla con un atto comico ecce homo novus andrea sperelli il quale in tal momento aveva gli spiriti gai ruppe in un di quei suoi franchi scoppi di risa che erano la più seducente effusione della sua giovinezza perché ridete voi gli chiese il rutolo pallidissimo fuori di sé fissandolo di sotto ai sopraccigli corrugati mi pare rispose lo sperelli senza turbarsi che voi mi parliate in un tono assai vivo caro marchese ebbene pensate del mio riso quel che più vi piace penso che è sciocco lo sperelli valzò in piedi fece un passo e levò contro giannetto rutolo il frustino paolo caligaro giunse a trattenergli il braccio per prodigio altre parole irruppero sopravvenne don marcantonio spada udì l'alterco e disse basta figlioli sapete ambedue quel che dovrete fare domani ora dovete correre intorno ai pubblici scommettitori ferveva la folla micing mallecio il cavallo del conte ugenta e brummel il cavallo del marchese rutolo erano i favoriti venivano poi miss eturist del duca di beffi e carboniglia del conte caligaro andrea sperelli era calmo quasi allegro il sentimento della sua superiorità sull'avversario l'assicurava egli andò incontro al suo cavallo con il cor palpitante come incontro a un amico che gli portasse l'annunzio aspettato di una fortuna gli palpò il muso con dolcezza e l'occhio dell'animale quell'occhio ove brillava tutta la nobiltà della razza per una inestinguibile fiamma l'inebrio come lo sguardo magnetico di una donna la campanella diede il segnale ma brummel aveva già preso lo slancio e la partenza quindi non essendo stata contemporanea fu ritenuta non buona anche la seconda fu una falsa partenza per colpa di brummel lo sperelli e il duca di beffi si sorrisero fuggevolmente la terza partenza fu valida brummel subito si staccò dal gruppo radendolo steccato gli altri tre cavalli seguirono di pari per un tratto e saltarono la prima siepe felicemente poi la seconda ciascuno dei tre cavalieri faceva un gioco diverso il duca di beffi cercava di mantenersi nel gruppo perché dinanzi agli ostacoli setirist fosse instigato dall'esempio il caligaro moderava la fuga di carboniglia a conservarle le forze per gli ultimi cinquecento metri andrea sperelli aumentava gradatamente la velocità volendo incalzare il suo nemico in prossimità dell'ostacolo più difficile il ruto lo sentì dietro di sé il galoppo incalzante e fu preso da tale ansietà che non vide più nulla tutto alla vista gli si confuse come se gli fosse per perdere gli spiriti faceva uno sforzo immenso per tener piantati gli speroni nel ventre del cavallo e lo sbigottiva il pensiero che le forze lo abbandonassero aveva negli orecchi un rombo continuo e in mezzo al rombo udiva il grido breve secco d'andrea sperelli hop hop sensibilissimo alla voce più che ad ogni altra estigazione ma leccio divorava l'intervallo di distanza non era più che a tre o quattro metri da brummel stava per raggiungerlo per superarlo hop un'altra barriera attraversava la pista il rutolo non la vide perché aveva smarrita ogni conscienza conservando solo un furioso istinto di aderire all'animale e di spingerlo in ansia all'avventura brummel saltò ma non coadiuvato dal cavaliere urtò le zampe posteriori e ricadde dall'altra parte così male che il cavaliere perse le staffe pur restando in sella seguitò tuttavia a correre andrea sperelli teneva ora il primo posto giannetto rutolo senza aver recuperato le staffe veniva secondo incalzato da paolo caligaro il duca di beffi avendo sofferto da satirist un rifiuto veniva ultimo passarono sotto le tribune in quest'ordine udirono un clamore confuso che si dileguò sulle tribune tutti gli animi stavano sospesi nell'attenzione ad ogni mutamento nell'ordine dei cavalli molte esclamazioni si levavano tra un lungo mormorio e le dame ne avevano un fremito sperelli è caduto annunzò a voce alta la contessa di lucoli brummel sebbene offeso alle zampe posteriori faceva prodigi per virtù del suo sangue puro carboniglia infine spiegava tutta la sua velocità condotta con arte mirabile dal suo cavaliere mancavano circa 800 metri alla meta lo sperelli vide la vittoria fuggirli ma raccolse tutti gli spiriti per ferrarla teso sulle staffe curvo sulla criniera gittava di tratto in tratto quel grido breve esile penetrante che aveva tanto potere sul nobile animale mentre brummel e carboniglia affaticati dal terreno pesante perdevano vigore ma lecio aumentava la veemenza del suo slancio stava per riconquistare il suo posto già sfiorava la vittoria con la fiamma delle sue narici dopo l'ultimo ostacolo avendo superato brummel raggiungeva con la testa la spalla di carboniglia a circa 100 metri dalla meta radeva lo steccato avanti avanti lasciando fra sé la morella del caligaro lo spazio di dieci lunghezze la campana squillò un applauso risonò per tutte le tribune come il crepitar sordo di una grandine un clamore si propagò nella folla sulla prateria inondata dal sole andrea sperelli rientrando nel recinto pensava la fortuna è con me oggi sarà con me anche domani sentendo venire in sé l'aura del trionfo ebbe contro lo scuro pericolo quasi una sollevazione d'ira avrebbe voluto affrontarlo subito in quello stesso giorno in quella stessa ora senza altro indugio per godere una duplice vittoria e per mordere quindi al frutto che gli offeriva la mano di donna ippolita poi avendo lasciato l'abito di corsa cercò di ludovico barbarisi e del barone di santa margherita ambedue accettarono l'incarico di assisterlo nella questione col barchese rutolo e gli li pregò di sollecitare stabilite dentro questa sera ogni cosa domani a luna dopo mezzogiorno io debbo essere già libero ma domattina lasciatemi dormire almeno fino alle nove io pranzo dalla ferentino e passerò poi in casa giustiniani e poi a tarda ora al circolo sapete dove trovarmi grazie e arrivederci amici per millanteria uscendo di casa giustiniani andrea andò al circolo delle cacce e si mise a giocare con gli sportsman napoletani verso le due il santa margherita lo sorprese lo forzò ad abbandonare il tavolo e volle ricondurlo a piedi fino al palazzo zuccari erano nella piazza di spagna la barcaccia metteva un chioccolio rocco ed umile luccicando alla luna che vi si specchiava dall'alto della colonna cattolica quattro o cinque vetture pubbliche stavano ferme in fila coi fanali accesi dalla via del babuino giungeva un tintinnio di sonagli e un rumor sordo di passi come ed un greggio in cammino a piede la scala il barone s'accomiatò addio a domani verrò qualche minuto prima delle nove con ludovico tirerai due colpi per scioglierti penseremo noi ad avvisare il medico va dormi profondo andrea si mise su per la scala al primo ripiano si soffermò attirato dal tintinnio di sonagli che si avvicinava veramente egli si sentiva un po stanco e anche un po triste in fondo al cuore una specie di inquietudine l'invadeva non bene distinta mista di dubbio e discontento i nervi troppo tesi in quella giornata violenta e torbida gli si rilassavano ora sotto la clemenza della notte primaverile perché senza passione per puro capriccio per sola vanità per sola prepotenza erasi egli compiaciuto di sollevare un odio e di rendere dolorosa l'anima di un uomo il pensiero della terribile pena che certo doveva affliggere il suo nemico in una notte così dolce gli mosse quasi un senso di pietà l'immagine di elena gli traversò il cuore in un baleno gli tornarono nella mente le angosce durate un anno innanzi quando egli l'aveva perduta e le gelosie le collere e gli sconforti inesprimibili anche allora le notti erano chiare tranquille solcate di profumi e come gli pesavano aspirò l'aria per dove salivano i fiati delle rose fiorite nei piccoli giardini laterali e guardò giù nella piazza passare il gregge la folta lana biancastra delle pecore aggloberate procedeva con un fluttuamento continuo accavallandosi a similitudine di un'acqua fangosa che inondasse il lastrico qualche belato tremolo mescevasi al tintinio altri belati più sottili più timidi rispondevano i butteri gittavano di tratto in tratto un grido e distendevano le aste cavalcando dietro e a fianchi la luna dava a quel passaggio d'armenti per mezzo alla gran città addormentata non so che mistero quasi di cosa veduta in sogno riprese a salire lentamente sentì più grave nel salire la sua stanchezza i ginocchi gli si piegavano gli lampeggiò di improvviso il pensiero della morte se io rimanessi ucciso se io ricevessi una cattiva ferita e ne avessi per tutta la vita un impedimento la sua avidità di vivere e di godere si sollevò contro quel pensiero lugubre egli disse a sé medesimo bisogna vincere e vide tutti i vantaggi che gli avrebbe avuti da quest'altra vittoria il prestigio della sua fortuna la fama della sua prodezza i baci di donna ippolita nuovi amori nuovi godimenti nuovi capricci allora dominando ogni agitazione si mise a curare l'igiene della sua forza dormì fino a che non fu risvegliato dalla venuta dei due amici roma splendeva nel mattino di maggio abbracciata dal sole dopo un tratto di salita apparve la città immensa augusta radiosa irta di campanili di colonne e dobelischi incoronata di cupole e di rotonde nettamente intagliata come un acropoli nel pieno azzurro erano nella villa sciarra già per metà disonorata dai fabbricatori di case nuove e passavano in un viale di lauri alti e snelli fra due spagliere di rose il santa margherita sporgendosi fuori dello sportello vide un'altra carrozza ferma sul piazzale dinanzi alla villa e disse ti aspettano già guardò l'orologio mancavano dieci minuti all'ora precisa fece fermare il legno e insieme col testimone col chirurgo si diresse verso gli avversari andrea rimase nel viale ad attendere mentalmente si mise a svolgere alcune azioni di offesa e di difesa che gli intendeva eseguire con probabilità di esito ma lo distraevano i vaghi miracoli della luce e dell'ombra per l'intrico dei lauri i suoi occhi erravano dietro le apparenze dei rami commossi dal vento mattutino mentre il suo animo meditava la ferita e gli alberi gentili come nelle amorose allegorie di francesco petrarca gli facevano sospiri in sul capo over regnava il pensiero del buon colpo sopraggiunse a chiamarlo il barbarisi dicendo siamo pronti il custode ha aperto la villa abbiamo a disposizione le stanze terrene una gran comodità vieni a spogliarti quando lo sperelli fu in assetto uscì col suo testimone e con i medici sul piazzale ancora una volta lo spettacolo di roma tra le palme attrasse i suoi sguardi e gli diede un gran palpito l'impazienza l'invase e gli avrebbe voluto già trovarsi in guardia e udire il comando dell'attacco gli pareva ad aver nel pugno il colpo decisivo la vittoria pronto gli chiese il santa margherita andandogli incontro pronto il terreno scelto era a fianco della villa nell'ombra sparso di fina ghiaia e battuto giannetto rutolo stava già all'altra estremità con roberto castellieri con carlo de susa ciascuno aveva assunto un'aria grave quasi solenne i due avversari furono posti l'uno di fronte all'altro e si guardarono il santa margherita che aveva il comando del combattimento notò la camicia di giannetto rutolo fortemente inammidata troppo salda con il colletto troppo alto e fece osservare la cosa al castellieri che era il secondo questi parlò al suo primo e lo sperelli vide il nemico accendersi d'improvviso nel volto e con un gesto risoluto far l'atto di scamiciarsi egli con tranquillità fredda seguì l'esempio si rimboccò i pantaloni prese dalle mani del santa margherita il guanto la stringa e la spada si armò con molta cura e quindi agitò l'arma per accertarsi di averla bene impugnata in quel modo il bicipite emerse visibilissimo rivelando il lungo esercizio del braccio e l'acquisito vigore quando i due stesero le spade per prendere la misura quella di giannetto rutolo oscillava in un pugno convulso dopo l'ammonimento d'uso intorno alla lealtà il varone di santa margherita comandò con una voce squillante e virile signori in guardia i due scesero in guardia nel tempo medesimo il rutolo battendo il piede lo sperelli inarcandosi con leggerezza il rutolo era di statura mediocre e assai smilzo tutto nervi con una faccia olivastra a cui davan fierezza le punte dei baffi rilevate e la piccola barba acuta insulmento alla maniera di carlo primo nei ritratti di van dick lo sperelli era più alto più slanciato più composto bellissimo nell'attitudine fermo e tranquillo in un equilibrio di grazia e di forza con in tutta la persona una sprezzatura di grande signore l'uno guardava l'altro entro gli occhi e ciascuno provava internamente un indefinibile brivido alla vista dell'altrui carne nuda contro cui appuntavasi la lama sottile nel silenzio udivasi il mormorio fresco della fontana misto al fruscio del vento su per i rosai rampicanti ove le innumerevoli rose bianche e gialle tremolavano a loro comandò il barone l'intorno il silenzio pareva più profondo tutti gli astanti avevano conscienza della volontà micidiale che animava quei due uomini e l'ansietà li teneva e li stringeva il pensiero di dover forse ricondurre a casa un morto o un morente il sole velato dalle pecorelle spandeva una luce quasi lattea e le piante or sì or no stormivano il merlo fischiava ancora invisibile a loro il rutolo si precipitò sotto misura con due giri di spada e con una botta in seconda lo sperelli parò e rispose facendo un passo indietro il rutolo incalzava furioso con stoccate velocissime quasi tutte basse lo sperelli senza sconcentrarsi a quella furia volendo evitare un incontro parava forte e rispondeva con tale accredine che ogni sua botta avrebbe potuto passar fuor fuora il nemico la coscia del rutolo presso l'inguine sanguinava alt tuonò il santa margherita quando se ne accorse ma in quell'attimo appunto lo sperelli facendo una parata di quarta bassa e non trovando il ferro avversario riceve in pieno torace un colpo e cadde tramortito sulle braccia del barbarisi ferita toracica al quarto spazio intercostale destro penetrante in cavità con lesione superficiale del polmone annunziò nella stanza quando ebbe osservato il chirurgo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti